Cardano Cecilia, basta gamma di macchine per cucire delle migliori marche a partire da 99 euro. Le migliori macchine elettroniche da ricamo, dalle più semplici per le appassionate alle più complete per un utilizzo professionale. Cardano Cecilia propone continue novità, taglia cuci, macchine per maglieria con il pratico mulinetto, macchine per lo stiro, inclusa la famosa Elna Press. E per tutte le appassionate di cucito creativo, proponiamo la gamma completa delle Big Shot ed il nuovo ScanCut. Scegli, acquisisci, ritaglia e crea. Vasto assortimento per chi pratica patchwork, kilting e decoupage. Offerta del mese, Neki 424, macchine elettronica molto intuitiva e di facile utilizzo, doppia alzata del piedino per tessuti spessi, infilatore automatico del lago, pulsante start-stop per cucire anche senza reostato, rasa filo che taglia il filo automaticamente a fine lavoro. Neki 424 è una macchina molto completa, con 342 funzioni di cucito, tra i quali 4 caratteri di alfabeto che vi permette di eseguire scritte o cifre sulle camice. Solo per questo mese, in superofferta a 499 euro. Acquista con fiducia da Cardano Cecilia, assistenza online e telefonica, 5 anni di garanzia, insegnamenti e scuola gratuita presso i nostri centri vendita. Vieni da Cardano Cecilia, in via Novara 111 a Galliate, con la certezza di trovare la passione per il cucito. Dal 1969, Cecilia Cardano non è solo un nome, ma una garanzia per sempre.